E se lo ami così tanto, cosa succederà nel nuovo episodio? Non dimenticare di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche per i miei nuovi video prima di passare alla nostra serie. Ates dirà ai bambini che sposeranno Leila. A Berit questa notizia piace di più. KVLCM e Aidos sono molto sorpresi. Ates dice a Leila che potrà fare pace con la sua famiglia grazie al matrimonio. Da da mangiare a Leila. In realtà, penso che Ates abbia imparato tutto su Leila. Sembra che Ates stia cercando di mettere all'angolo Leila lanciando piccole esche. Nel frattempo, Meriem stava flirtando con l'autista di casa. Meriem gli dirà tutta la verità per convincerlo che non è sposata. Il giovane è molto sorpreso e dice che conviviamo da un mese con una famiglia traditrice. Leila e Ates stanno iniziando i preparativi quando dicono matrimonio e abito da sposa. Fusuna ha qualcosa da dire ad Ates riguardo a Leila. Leila cerca di impedirlo. Ates, invece, aspetta che Leila parli di qualcosa. Il fuoco è un personaggio intelligente. Anche all'inizio della serie, aveva fatto delle ricerche su Leila nel suo hotel. Penso che tu conosca tutti i fatti e troverai anche la vera famiglia di Leila. Ma la nostra serie andrà in finale? Ha iniziato a muoversi molto velocemente. Penso che Ates e Leila si sposeranno, ma questa volta sarà Ates a partire. Sarà molto interessante, lo vedremo guardandolo insieme. Arrivederci.